Un carnevale dal respiro sempre più internazionale. È questo l'obiettivo da raggiungere di qui ad un anno, ovvero entro la fine del mandato, per Marielina Macucci, presidente della fondazione, che a dieci giorni dalla chiusura del carnevale e dei record ha tracciato un bilancio della sua attività. Ospite di Sergio Talenti a Parlando Con, su Noi TV, a bocce ferme ha analizzato gli scenari futuri. Burlamacco, quest'anno sempre più globale e social, collaborerà presto con il Messico per la tradizionale festa dei morti o giorno delle anime. È proprio di oggi il ritorno di Enrico Vannucci, che è uno dei maestri del carnevale, che non produce più per il carnevale ma che lavora tanto con la fondazione, che ha fatto dieci giorni in Messico incontrandosi con gli artigiani che a città del Messico producono le opere per la festa dei morti, che è un pochino un equivalente negli anni recenti del nostro carnevale. proprio per cominciare a creare non soltanto delle interazioni e degli scambi dal punto di vista artistico e anche tecnologico, ma proprio per far sì che la nostra cittadella diventi un luogo dove da tutto il mondo, piano piano, possono arrivare coloro che sono interessati a applicarsi a questo studio. Finito il carnevale e consegnati i premi, visto il tesoretto raccolto al botteghino, a Vireggio c'è chi pensa ad un carnevale estivo come nel 2011-13, ma Marcucci boccia l'idea. Il carnevale estivo è uno sfizio interessante per l'amor di Dio, ma che semplicemente porta via risorse alla fondazione carnevale nell'organizzazione perché ha avuto successo soltanto quando era gratuito. Facciamo conto, quegli stessi 100.000 euro sia molto meglio investirli per lasciare una cittadella fruibile, in sicurezza e con dei luoghi che a breve apriremo. E infine, ad un anno dalla fine del suo mandato, la domanda che in tanti suppongono potrebbe esserci un Marcucci bis? Io non metto mai un'ipoteca sul futuro, perché di solito la vita mi è venuta incontro. Io quello che dico è che non si può dare per scontato assolutamente niente. Noi abbiamo iniziato e vogliamo concludere delle cose, non soltanto io, anche i miei colleghi del CdA, in un percorso che deve essere comunque compiuto e ben radicato. Quello che succederà dopo, succederà dopo. Diciamo che comunque bisogna lavorare ogni giorno come se fosse l'ultimo.